Il mio consiglio che approfitto qui del tuo canale per dare a tutti quanti è di disinstallare, o meglio non si può disinstallare il sistema, però si possono negare tutte le autorizzazioni, in particolare quella di geolocalizzazione, quella di invio degli avvisi eccetera eccetera, cosa che io ho fatto è relativamente facile, basta andare sul menu emergenze, sul menu delle impostazioni del telefonino, quale che sia la marca che si utilizza, se si scrive emergenze o emergency a seconda della lingua in cui è impostato il sistema operativo, si apre il menu di questa roba e si possono togliere tutte le spunte di autorizzazione, però quello che è inquietante è che le spunte di partenza sono tutte attivate e immagino che questa cosa vada controllata periodicamente perché immagino che così come l'hanno attivato da remoto continueranno a farlo anche se l'utente lo disattiva.